allora bimbi vi serviranno una penna nera o pennarello una forbice un metro da sarta o un metro di quelli che si usano per fare lavori a casa e un nastro di raso o fettuccia bianca o un nastro per fare i pacchetti regalo via il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.